L'impegno nella resistenza è un gruppo che abbiamo inserito nel mese di aprile e che avrebbe dovuto avere tutta una serie di iniziative collegate. Non sono tantissime quelle che abbiamo esposto, nel senso che sono tantissime le donne milanesi che hanno partecipato alla resistenza, che erano nei gruppi di difesa della donna, che facevano le staffette partigiane. Abbiamo messo quelle principali, non dimenticando le altre. La scelta è stata quella di mettere Bianca e Adeleceva, di mettere Giuliana Beltramigadola, di mettere alla Gisella Florianini, di mettere Fernanda Witkins, che noi ricordiamo come la prima direttrice dell'Accademia di Brera, ma è stata soprattutto una grande partigiana coinvolta nel famoso processo delle Dame Bianche. Abbiamo messo anche Gisella Florianini, Stella Vecchio, abbiamo messo le Principato, madre e figlia, ma non abbiamo potuto raccontarli tutte. Però sono una testimonianza preziosa, perché a partire da loro, se si vuole, si può scoprire tutto il resto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.